buonasera siamo di nuovo su bolt action italia podcast con samuele e il dabbatore enrico e oggi vi parleremo di un altro news da parte di world community stavolta parleremo dei cecchini come al solito intelligence report snipers come avevano già anticipato precedentemente in particolare nella news che riguardava le team weapon e in particolare le mmg la regola exceptional damage non esiste più e di conseguenza il cecchino è stata la regola del cecchino è stata riscritta per dare al team cecchino stesso la possibilità di scegliere il bersaglio a differenza però dell'addizione precedente la scelta del bersaglio è stata notevolmente ristretta infatti qui è riportata la nuova versione della regola la versione che viene utilizzata nella v3 e per la maggior parte del testo è essenzialmente uguale a prima dice che un'unità con la regola speciale sniper se non ha mosso con ordine di fire o ambush può decidere di sparare col fucile al cecchino utilizzando l'ottica se non usa l'ottica la differenza delle altre team weapon le unità i modelli al suo interno possono sparare con tutte le armi di cui hanno a disposizione e infatti se non sbaglio il cecchino ora tutti i cecchini dovrebbero avere la pistola e quindi volendo l'osservatore può sparare con la pistola o nella v2 il team cecchino americano aveva non solo la pistola ma l'assistente poteva avere se non sbaglio la smg sì e cosa succede quando si decide di usare l'ottica e si spara con l'ottica cosa si fa semplicemente la gittata dell'arma è aumentata 36 pollici ma come per il fuoco indiretto qualsiasi bersaglio che viene scelto che è entro 12 pollici viene mancato automaticamente una novità è che quando si spara col cecchino in questo modo si ha un più uno al tiro per colpire quindi il cecchino ritorna a colpire altre più inoltre quando si spara col cecchino all'unità e si colpisce il versaio non ha disponibile non può utilizzare la tiro salvezza dovuta alla cover e in più ha un più uno al tiro per ferire ma solo contro unità di fanteria artiglieria quindi il classico caso dove cecchino contro cecchino che si colpiscono al 3 si finiscono al 4 ora diventerà un si colpiscono altre e si finiscono al 3 la differenza però rispetto a prima è questa qua che è una grande diciamo differenza ovvero che il cecchino se colpisce può decidere di o far sì che l'unità rimuove un modello normalmente oppure rimuovere l'ansio o il leader dell'arma team dell'artiglieria l'ufficiale nel caso sia un team di ufficiali il medico se c'è l'osservatore eccetera eccetera in poche parole l'unico modello che può scegliere di levare è quello del leader della squadra sia esso appunto nel cio un ufficiale o altro rango simile o di valore questo comporta che essenzialmente l'unità bersaglio soffrirà della regola perdita dell'ansio che comporta una riduzione di meno uno al morale dell'unità e nel caso di tutte le team weapon di un meno uno al tiro per colpire ma finisce lì e non comporta nessun altro effetto l'unica cosa che ovviamente se l'unità bersaglia è composta da soli due modelli dovrà soffrire dovrà fare un test di morale per non essere rimossa dal tavolo come già succedeva precedentemente e niente la news parla solo e esclusivamente di questo e non parla assolutamente di niente qui c'è un bellissimo cecchino russo in siberia lasceremo l'immagine come sfondo mentre parleremo di questa novità cosa ne pensate di questi cecchini finlandesi super nerfati da questa news vai pure enrico e sai che non ci avevo ancora pensato i cecchini finlandesi che dice che gli lasciano il master of the hunt come regola nazionale che quindi colpiranno al 2 sì sì tanto per quello che faranno sì giusto in effetti senso alle varie là cioè sì è infatti voglio arrivare a questo cioè l'enorme nerf che adesso rimuovono solo gli ncio onestamente è un po' triste per non aggiungere altre spregevoli parole e mentre prima era poteva essere molto occasionale perché lasciando stare che poteva rimuovere le weapon teams che quello lì ci sta che adesso non rimuove più le weapon team ma all'interno di una squadra posso capire io che il capo squadra sia colui che ha le informazioni e che è di vitale importanza la squadra che quindi vada eliminato come personale prioritario però se sai in come in una normale squadra di fanteria della seconda guerra mondiale uno o due mitragliatrici in squadra che quelli continuano a far soppressione su la tua fanteria che prova andare avanti tu spari all'ufficiale sia al capo squadra sergente caporale quello che vuoi o spari a uno di questi due furbacchioni con l'MG che ti sta tritando oppure che ne so vedi che c'è il tipo che c'ha l'anticarro dedicato e dici ah è il caso che io sparo al coso al tipo col mettiamo il caso panzer faust bazooka panzer shrek tu quello che vuoi o sparò l'ensio ok nel caso degli small team come il bazooka team panzer shrek team la warlord ha detto che l'utilizzatore dell'arma è anche il capo squadra quindi quando tu col cecchino sparerai a quello automaticamente avrà un cioè il servente prenderà in mano il bazooka e come se non sapessi più né leggere né scrivere avrà un menù uno a colpire e posso capire almeno uno a morale oltre al fatto che dovrà testare però questo nerf non mi piace troppo perché già prima i cecchini li odiava a morte perché non funzionavano mai adesso li odio ancora di più ah io non ho molto altro in più da aggiungere effettivamente io non prendevo mai i cecchini nelle mie liste non era sicuro che colpisce o meno cioè partite ok avevi fortuna colpivi sempre rimuovevi sempre l'weapon teams o l'MG di turno quando ancora si poteva fare adesso invece boh non lo so chiaramente come dico sempre dalla prima che è stato e giocato però al momento non non so se potrebbe essere un cambiamento negativo posso forse comprendere il perché l'abbiano fatto per giustificare il fatto che adesso non c'è come regola il ma che si chiama esattamente non mi viene la parola e quindi rimuovere l'MG voleva dire che devi giustificare il fatto che un altro membro della squadra andava di recuperarla e posso creare ha fatto più che altro per questo motivo qua però a parte questo sì effettivamente è un downgrade dell'unità del cecchino da ogni punto di vista e specialmente ecco mi stavo dimenticando specialmente al momento piccolo spoiler ci sono uscite le nuove regole nazionali delle cinque nazioni principali cinque perché l'Italia non si può contattare tra queste purtroppo però l'Italia non è stata influente per lo scontro non ha fatto assolutamente niente quindi perché dovrebbe essere un'azione ma l'Italia non ha tipo combattuto solo dopo l'8 settembre dalla parte degli americani non era così no anch'io lo spero così ah ecco l'8 settembre del 46 certo certo vabbè comunque piccolo spoiler le regole tedesche e quelle delle tutti gli altri eserciti sono rimaste praticamente quelle e quindi tra le regole tedesche c'è anche initiative training che quando piccolo risuntino quando una squadra di fanteria viene rimane senza NCO lanciando un dado facendo tutto parte 1 se non sbaglio viene eletto un altro squad leader perché le unità tedesche erano molto erano ben addestrate e potevano permettersi questa cosa qua sul campo con questa regola qua ancora in gioco diventa inutile usare un cecchino contro squadra di fanteria tedesche perché nella maggior parte dei casi andranno a cambiare, a stituire il loro squad leader quindi inutile letteralmente paghi 50 punti per fare lo stesso lavoro che farebbe un fuciliere normalissimo perché sicuramente non sparerai all'ensio diciamo che non ha molto senso diciamola così lo stato per me avrei lasciato il fatto di dover levare dell'exceptional damage l'avrei lasciato per unità di fanterie mentre per le unità di per le team weapon non l'avrei messo cioè avrei dato come regola speciale le team weapon che se un'unità alla regola team weapon l'unità intera non l'lmg guarda samuele mi mette già il mi piace cioè se un'unità team weapon se uccido l'arma allora un servente prende l'arma e ha i malus almeno un altro per colpire almeno uno al morale eccetera però comunque può usare l'arma se invece uccido un'arma tipo l'lmg all'interno di una squadra fai per la concitazione del momento guarda quanti emoji simpatici la concitazione del momento la situazione particolare il fatto che l'unità sta avanzando l'unità non ha tempo per recuperare l'arma oppure magari mettilo con un tiro metti che ne so che lo recuperi con un tiro al 4 più il servente riesce a recuperare l'arma eh non male in questo modo invece tra l'altro avrò un'altra parentesi nel regolamento di bolt action il fatto che il lanciafiamme venissero tolti con un tiro di uno sulle munizioni veniva rappresentato cioè serviva a simulare due cose non solo il fatto che appunto il lanciafiamme cioè un contenitore ok che è grosso ma ha un numero contenuto di volte che può essere utilizzato ma anche il fatto che il lanciafiamme era sul campo il primo bersaglio di tiratori nemici proprio per via della sua pericolosità quindi te mi stai dicendo che ok il lanciafiamme era la prima cosa che i cecchini sparavano perché era pericolosissimo e poi ovviamente se fai scoppiare una bombola di metano in mezzo ai nemici magari qualcosa fai qualche come si dice qualche danno collaterale però contemporaneamente mi dice che il cecchino è stato pensato per uccidere gli ensio e quindi l'unico bersaglio che può scegliere è appunto l'ensio allora vedi che c'è una contraddizione in questa logica vai non ci sentiamo è così emozionato che non riesci a parlare ok apposto e dicevo adesso entro a fare il conto a rivetti perché il mito che se tu spari a una bombola di un lanciafiamme e questo esplode è un mito hollywoodiano cioè dovresti avere munizioni incendiarie dedicate per poter innescare appunto il comburente all'interno delle bombole quindi la famosa scena di salvate il soldato Ryan in cui c'è il tipo che esce fuori rimane solo hollywood cercatevi se volete il video di mit buster dove effettivamente hanno testato la cosa e con proiettili normali neanche i serbatoi delle macchine esplodono quindi miti è meraviglio che la warlord non l'abbia inserita come regola visto che è già hollywoodiano porco schifo è vero no gli hai bel suggerito di 3 hits se esplode il lanciafiamme aspetta aspetta scusate un attimo si è scusate ragazzi la warlord mi hanno chiamato mi vogliono assumere lì per il come game designer è sicuramente una soluzione migliore di dare un pin all'unità con il lanciafiamme che ogni volta che spara boia questo non l'avevano detta eh sorpresa sorpresa amanti dei lanciafiamme nessuno adesso i lanciafiamme e gli mlrs ogni volta che spareranno si beccheranno un pin guarda com'è contento samuel contentissimo con i suoi catiuscia che li può tenere tutti nello scaffale in compenso in compenso adesso il lanciafiamme è quando tireranno uno a scaricarsi da quel che mi è parso di leggere l'x o che cacchio era non rimuovi più i modelli ma diventano modelli disarmati no meglio prendono il fucile ah sì ottimo meglio ancora si spawna in mano il fucile tirano fuori dal culo avranno il barattolo del lanciafiamme e dentro c'era un fucile lo tirano fuori e tipo le capsule corpo di di bullman nella prima serie di drago solo che è grossa così la caccia il filo è pieghevole l'M1 carabine calcio piegato dentro il lanciafiamme no no questa bella ero persa che evidentemente prendono in mano il fucile ci sta finalmente era insulso che perdevi 50 punti di lanciafiamme perché tiravi uno beh dai una cosa giusta nella v3 l'hanno fatta io avrei dato la pistola gli avrei dato se devo essere sincero sarebbe stata un'altra cosa bella però riconosco che come si dice aggiungere un modello con pistola magari in unità che ha solo fucili per mantenere la cosa più semplice avere tutti i fucili è diciamo più facile dal punto di vista di gioco è anche più facile che un giocatore abbia un modello extra con un fucile che un modello extra con la pistola e niente sono molto ma mi pare no no continuo continuo no volevo dire sui cecchini sono molto triste per i miei cecchini finlandesi che ora saranno ancora più inutili di quanto erano prima e la mia consolazione poteva essere il fatto che magari con tutti questi nerf i cecchini costassero meno punti e invece sempre grazie ai leak di questo periodo sappiamo che per esempio il cecchino tedesco è passato da costare 50 punti regolari a costarne 52 motivo semplice perché ora i due modelli hanno le due pistole una a testa una per il cecchino e una per l'osservato pre ottimo quindi i cecchini prima che venivano usati in maniera parsimoniosa sul tavolo magari come counter di mortai medi inesperti senza osservatore spammati sul campo come se non ci fossero domani ora verranno sostituiti da lanciafiamme che una volta finito il carburante diventeranno dei nuovi cecchini perfetto con questa parentesi per me si può chiudere la discussione sull'argomento cosa volevi dire Enrico? no è che mi pare che in tutti i modelli lanciafiamme della warlord il servente è armato di fucile ma vado a memoria è armato di qualsiasi cosa ma tutte le team weapon della warlord hanno un equipaggiamento che non è giocabile io ho un Panzerschreck dove il munizionista ha l'SMG e non esiste no in realtà c'è una unità dei tedeschi che nella V2 poteva avere l'SMG i Panzerschreck esatto proprio loro e poi mi sembra che tutti gli altri abbiano o il fucile o la pistola o l'SMG ma in realtà ha senso eh perché parliamoci chiaro un tizio col fucile non è che sta dall'altra parte del tavolo cioè del campo di battaglia ma sta al fronte e quindi se quello che ti deve stare accanto è dare supporto che gli dai un binocolo oppure gli dai una cazzo di SMG per darti un po' di supporto mentre cerchi di non esplodere con una bombola di propano attaccata al culo no Massimo poi anche storicamente effettivamente nei team cecchini nei team lanciafiamme l'assistente ha sempre un'arma corta anche per tutta la fase di avvicinamento alla zona di combattimento infatti non è che ti ritrovi sempre a chi lo ha ma ti ritrovi davanti io sei pronto tutti i cecchini che avevano diciamo solo il fucile o comunque che non avevano diciamo un supporto sono tutti i cecchini che nella storia o comunque storicamente erano dei lupi solitari che stavano tipo in cima a una chiesa e facevano fuori i tedeschi a nastro o nel caso di Simo Aya ammazzava miliardi di russi mentre si stava nascosto dentro la neve per giorni o settimane esattamente mi era anche venuta in mente un'altra cosa beh comunque ho appena ho guardato anche sul sito della Warlord ad esempio per dirti il bazooka bazooka americano o fucile e no non mi sono indicato veramente cosa stavo dicendo oh mi sa che devo andare devo fare un cecca alla memoria è già la seconda volta oggi ma sì vergognoso cioè ah sì ecco riguardo i cecchini è interessante come allora adesso non ho visto tutte le fazioni però al momento della V2 so per certo che ad esempio i cecchini tedeschi si è specificato che hanno le pistole gli americani no non ce l'hanno no? i cecchini tedeschi allora nella V2 gli unici cecchini mi sembra che abbiano le pistole sono quegli americani che c'è scritto proprio che hanno le pistole e mi sembra che uscì anche la FAC per farli aumentare di costo di punti perché costavano 50 punti ma avevano due pistole e quindi uscì la FAC per farli costare due punti in più perché sennò non tornava il costo in punti e poi mi sembra un altro team ma non mi ricordo quale di quale nazione che ha le pistole ma di base nessun cecchino nella V2 aveva le pistole nasceva con le pistole ah ok allora niente ricordavo male io comunque il cecchini americani sia il cecchino che l'assistente possono prendersi le SMG a due punti a modello allo stato della V2 attenzione infatti io gli giocavo i cecchini americani perché non erano malissimi gli dai due SMG se il bersaglio è lontano ah forward deployer sparavi col cecchino esatto forward deployer lo metti avanti poi se il bersaglio resta lontano sparavi col cecchino se invece si avvicinava troppo scendevi dall'edificio dove eri sparavi quattro colpi di SMG altre non era cattivissimo come cosa non fan male no 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 ora invece non si farà perché nessuno giocherà più il cecchino anche se ti dirò che penso almeno c'è un amico australiano e lui mi dice che a livello di gioco loro i cecchini sono super utilizzatissimi e tipo quando ne abbiamo parlato del discorso del cambiamento i cecchini mi fa ah ma è così va bene comunque le continueremo a usare io tipo vabbè allora mettiamola così allora riapro il discorso un attimo sì sì il cecchino giocato da solo non è forte perché allora nella v2 non aveva praticamente senso perché cioè poteva avere senso come counter dei mortai ma se ne giocavi solo uno non era un vero e proprio counter ma più un dissuasore perché non era proprio garantito che colpisse che eliminasse il bersaglio nonostante tutti i vantaggi diciamo dello sparare alla team weapon diventava forte se ne giocavi due o avevi il modo di giocare due cecchini per esempio i russi avevano la squadra dell'istruttore con due cecchini se l'istruttore faceva da osservatore i cecchini sparavi due colpe di cecchino se invece i cecchini come si dice i cadetti facevano da osservatore l'istruttore sparava un colpo di cecchino però c'aveva un bonus per esempio sparava al 2 forse e quindi avevi due colpe di cecchino che potevi anche dividere un altro esempio erano i partigiani francesi che hanno la squadra esatto che avevano che erano praticamente il cecchino più economico che potevi giocare perché facevi una squadra da 5 di cui uno aveva il fucile con la regola cecchino e gli altri 4 li facevi esatto li facevi con la pistola eccetera erano inesperti li mettevi in fondo e funzionavano esattamente come cecchini e ne potevi giocare tipo 3 4 5 squadre se volevi esagerare e facendo in questo modo avevi tanti colpi di cecchino che se schierati bene e su un campo che ti poteva dare una mano equivaleva a mettere tanti pin su un'unità o avere praticamente la certezza di levare una team weapon che ti stava sul cavolo questa cosa si può replicare nella v2 perché se non sbaglio il rifle platoon di base ha 0 2 cecchini quindi te potresti partire potresti partire con 2 cecchini in campo se giochi 2 cecchini sei quasi sicuro di fare qualcosa il problema è che quel qualcosa nella v3 diventa un poco rilevante per tutte le motivazioni che abbiamo elencato prima ti correggo è 0 1 cecchini allora niente il cecchino fa schifo grazie per il cecchino fa schifo alla prossima e dopo questa notizia bomba torniamo allo studio mancano 5 minuti ah ma per me si può chiudere cecchini out ciao 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 ragazzi ciao cecchini ciao